Pendolari, autisti di Tua, gente comune, tanti politici e sindacalisti di varie sigle a sitino organizzata a Piazza d'Armi dal Comitato Pendolari L'Aquila Roma, guidato dall'Avvocato Donatella Sarra, un gruppo nutrito che dice no alla soppressione e all'accorpamento di ben 14 corse Tua a causa della trasformazione della tratta L'Aquila Roma in commerciale, che si sta traducendo di fatto nel taglio di alcuni servizi di trasporto pubblico per il territorio. Intanto oggi i Pendolari incontrano l'assessore Mannetti, che vuole capire le stanze e le esigenze dei Pendolari e vedere come si possono conciliare con quelle dell'azienda, perché la Mannetti dice una soluzione si deve trovare, non è una questione politica. L'Avvocato Sarra ha ricordato che da oggi sono partiti i tagli e ha precisato che la battaglia viene fatta per tutta la città e che non si presterà mai a strumentalizzazioni politiche. In particolare incriminate le corse delle 4 e 30 e quelle delle 23. Corse assolutamente necessarie, tante persone così senza poter prendere alcune corse, ha detto l'Avvocato Sarra, rischiano addirittura il posto di lavoro. Tantissimi i Pendolari presenti e tantissimi anche i politici presenti, compreso il consigliere regionale Americo Di Benedetto, tanti consiglieri comunali, l'Avvocato Mannetti, assessore comunale ai trasporti dell'Aquila e anche la deputata Stefania Pezzopane. Una tratta che aveva origine da Giulianova, passava per Teramo e arrivava a Roma. Una reazione sulla quale ci siamo battuti perché rimanesse dentro l'azienda pubblica e ci siamo battuti perché fosse contribuito a considerare servizi essenziali. Per un pezzo è rimasta dentro l'azienda pubblica, purtroppo oggi non è più un servizio essenziale ma considerata reazione commerciale. Questo sta generando esattamente quello che avevamo previsto nella nostra battaglia, cioè una rarifazione del servizio. Ora, in questo senso noi pensiamo ci sia anche una contraddizione su tutto il progetto di organizzazione perché il presupposto che aveva portato a ribadire la necessità del servizio essenziale, quindi nella definizione del servizio essenziale, era proprio quello dell'intervento pubblico dove c'era fallimento di mercato, cioè non c'era utenza o poca utenza. E qui invece si stanno esattamente tagliando quelle relazioni che impattano su più deboli, quelli con poca utenza, quelle poco appetibili al mercato. Noi pensiamo che questa è una condizione che vada a ripresa e ritrovare contribuzione su quelle che sono esattamente i servizi essenziali.